e ciao a tutti amici qua freebomber e oggi siamo su roblox per chi non sa cos'è roblox è un gioco che include tanti piccoli o grandi minigames molto fighi quindi noi siamo nei panni del nostro scienzioso pazzoso e oggi siamo su mad pinball questo gioco consiste nell'avere un mitragliatore a tempera e ad uccidere i nemici che in questo caso sono i rossi bene quindi ma vicino alla base nemica facendo sempre molta attenzione ok io taglio e vado a cercare i nemici comunque bene raga la ci sono tutti i nemici bene andiamo a farli fuori tutti quanti dal primo all'ultimo ah quello bene quello la forza andiamo a ucciderli raga qua è una questione di vita o di morte io mi avvicino raga ho cercato di distruggerne uno ma ho poca vita si l'ho preso vai vai sono un cecchino ok questo questo ha intenzione di uccidermi anche questo qua ok mi sa che vengono mi sa che vengono raga la c'è un rosso sono morto vai vai noi non ci arrendiamo noi andiamo raga oggi non farò solo mad pinball ma farò anche altri giochi che sceglierò più tardi questo è un po' un gioco di strategia poi andremo a vedere dei giochini un po' più divertenti ok eccolo la l'ho visto l'ho visto l'ho visto andiamo a prenderlo raga hello mad oh santo cielo ok il mouse è sensibilissimo guarda l'ora dietro hello mad fa che dai andiamo raga andiamo irruzione oddio raga chi sei tu ah è un amico ma dobbiamo riuscire a vincere raga oh io ci provo no dico io ci provo ecco infatti siamo due contro uno baby morto boom baby 1 2 3 4 così ricarichiamo ok dobbiamo riuscire a entrare raga mi hanno colto di sorpresa vi giuro vabbè io direi che qua possiamo anche qua basta ok eccoci ragazzi siamo su natural disaster survival un gioco abbastanza diffuso dove in pratica noi dovremmo sopravvivere a dei disastri su varie isole ecco prima di tagliare e andare sull'isola vi voglio dire che allora la serie di come che si chiamava di sea craft quella che ho aperto non potrà essere non potrei non potrò fare altri episodi perché come fanno a morire questi perché in pratica minecraft 1.15 punto qualcosa ha un bug che non lo fa aprire tu provi a cliccare sull'icona e su alcuni dispositivi si bugga e si arresta in quanto alla serie di The Sims più in avanti state tranquilli farò nuovi episodi ancora e per la serie di space conquest che ho visto che veramente vi piace tanto 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 cercherò di portarla il prima possibile ma adesso io taglio e aspettiamo il disastro lo 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 cosa è successo la 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 una scuola earthquake madonna lagga no non laggare ti prego non durante il mio video come faccio ad arambicarmi sulle finestre ragazzi stiamo calmi stiamo calmi Ah Sto per finir giù dall'isola Aiuto Porcaccia Allora Ragazzi Guardate la distruzione totale La distruzione Madonna C'è quello la che Ok mi sa che sono tutti morti Se c'è qualcuno O è là dietro o è dentro la scuola Eh signorina Si deve togliere Non mi deve spingere giù Signorina Ok è finito Spingiamo giù questo Porca Si Questo è il parco delle macchinine Addosso Una macchinina Brum Memme 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 Si Si la macchinina Si la macchinina Andiamo tutti sulla macchinina Eh Tundest Tundest Tundestorm Cavolo no, devo scendere dall'auto Raga, una tempesta Tempesta di fulmini Tutti al coperto Raga, voi da casa, sostenetemi Dobbiamo sopravvivere, raga Non possiamo morire così Non è ancora arrivato il giorno In cui Free Bomber muore Capito tu? Ecco, si è ucciso Bravo, ma bravo Bravo, ma è pure fatto da scudo umano Ti stimo Bravo Noi siamo sopravvissuti Boom, baby Noi siamo qua Qua, dove indica la mia freccia Siamo Free Bomber 2005 Ebbene, raga Il nostro video direi che può terminare qui Come sempre lasciate 10 like E commentate E chi non è ancora iscritto al canale Si iscriva assolutamente Quindi Noi ci vediamo in un prossimo video Di Roblox O di Minecraft O di qualsiasi cosa Ciao da Free Bomber Ciao da Ciao da Grazie.